DUNQUE DUNQUE AUGUSTO SEI TU? RISPONDI NO IO SONO ARNOLDO AUGUSTO SONO IO GIULIO? SONO IO GIULIO IO ERCOLE ERCOLE E LUI EDGARDO SI E' GIUSTO? SONO IO Signor Mortara, mi dispiace dirle che... che è vittima di un tradimento, suo figlio, Edigardo è stato battezzato e ho l'ordine di prenderlo Ma prenderlo in che senso? Portarlo via Cosa? E chi l'ha ordinato? Il Tribunale del Santo Uffizio Dovrete prima ammazzare me Se c'è un errore No, no, non c'è nessun errore Laườ Mayro Laria Dio Laia Dio Laia Grazie a tutti.